Si è conclusa l'assemblea dei soci nel 126esimo congresso della SIC, di che salute gode la Società Italiana di Chirurgia? Di un'ottima salute, è una società che continua ad incrementare il numero dei soci e continua ad incrementare il numero dei soci giovani, quindi è una società estremamente vivace, i giovani portano novità, questo congresso riporta un titolo che è totalmente a loro favore perché il futuro della chirurgia, il chirurgo come dovrà essere nel futuro, quindi assolutamente gli auspici sono ottimi. Questa società ha presentato un bilancio che è comunque un bilancio che ci permette di continuare a pensare e a sognare di fare cose. Abbiamo accanto i soci prima di tutto e abbiamo accanto, e credo che continueremo ad averle accanto, le aziende proprio per la serietà che è questa società, alla quale viene riconosciuta questa serietà, per cui non credo che ci siano problemi nel poter pensare al futuro. Mai come quest'anno abbiamo avuto un numero impressionante di giovani che si sono avvicinati, si sono iscritti alla Società Italiana di Chirurgia, questo è stato il mio impegno durante questo direttivo, in qualità di segretario generale e continuerà nei prossimi anni fin quando avrò questa carica. La cosa importante adesso è trattenerli, con la crisi che abbiamo sentito dei giovani, soprattutto nel campo chirurgico, coloro che dimostrano il loro amore per la chirurgia vanno trattenuti attraverso l'insegnamento e attraverso la condivisione dei valori che ci hanno insegnato i nostri maestri, che sono quelli della correttezza, del rispetto del malato al centro e del rispetto verso i colleghi. Ai giovani io voglio dare questo messaggio di non aver paura per seguire i propri sogni, e se il sogno è quello di fare il chirurgo, anche se possono ascoltare mille difficoltà, devono perseguire il loro sogno. Fare il chirurgo è una passione che non è, chiaramente è importante anche quello, non si può misurare solamente con la remunerazione che purtroppo in Italia è bassa, ma si deve misurare con quello che poi ti restituisce il contatto giornaliero con i pazienti, con i familiari, con gli successi e anche purtroppo con gli insuccessi, ma devono perseguire i propri sogni senza farsi spaventare delle avversità. C'è stata finalmente un'inversione di tendenza, cioè abbiamo avuto l'iscrizione di molti giovani, e questo per noi è un orgoglio, e di tanti altri chirurghi italiani che hanno scelto di iscriversi e di aderire alla nostra società. Quindi questo significa che la nostra società, come dice il Presidente Carlini, è un po' la casa dei chirurghi, e la casa dei chirurghi merita non soltanto una buona manutenzione, ma merita un miglioramento continuo, guai ad accontentarsi, almeno questo è un motto che c'è sempre stato nella mia famiglia. A fine anno, quando riportavo una bella pagella a casa, e magari come tutti i miei compagni mi aspettavo un regalo, mio padre mi diceva, che poi è un antico Presidente della Società Italiana di Chirurgia, diceva, ma regalo per che cosa? Hai fatto il tuo dovere. Ecco, il nostro dovere è quello di andare avanti, di non accontentarsi mai, perché dobbiamo competere con tutte le società più prestigiose di chirurgia del mondo occidentale, ma anche del mondo orientale che è in notevole crescita. Cioè voglio dire che questo grande patrimonio è un patrimonio che va curato, preservato e potenziato. E credo che con questo congresso siamo sicuramente sulla strada giusta, perché, ripeto, le difficoltà oggettive, economiche e anche culturali del nostro Paese un po' vacillano in questo momento storico. Noi dobbiamo dimostrare che sappiamo fare e sappiamo fare bene.